Attualmente abbiamo due squadre di palombari, 12 palombari che stanno aprendo dei varchi con delle micro esplosioni all'altezza del quarto ponte, a 18 metri di profondità sul lato destro, quindi quello vicino alla costa. L'obiettivo è quello di creare nuovi varchi e successivamente continuare le ricerche all'interno della nave. Abbiamo visto questa mattina incrociare più volte, a largo dell'isola, una nave della Marina Militare. Noi abbiamo avuto due navi che avete dovuto vedere, una era la nave Appoggio del gruppo operativo Subacqueo, la nave Pedretti, e quella più a largo, quella più grande, nave Orione, una nave della Marina Militare, un pattugliatore d'altura, che è impiegato in scopi dual use, ovvero sia in campo militare che in campo civile. Nave Orione ha anche delle capacità di lotta all'inquinamento in mare. Questo è un assetto che la Marina Militare ha messo spontaneamente in campo per agevolare e per aiutare eventuali necessità. Siccome la nave è ad Augusta, è chiaro che abbiamo guadagnato tempo anche noi. Un'eventuale richiesta, la nave è già pronta, in supporto alle operazioni dei mezzi tecnici preposti, ovviamente. I soccorsi quanto andranno ancora avanti? Allora, in generale non si parla solamente dei palombari della Marina Militare, andremo avanti finché ci sarà richiesto. Noi non possiamo pensare al futuro o al condizionare, noi pensiamo istante per istante. Grazie a tutti.